ecco qua sentite che odorino ed eccoci alla fatidica discesa dello schiacchietello questa è Punta Pella ed eccoci ed eccoci scendere guardate guardate che spettacolo lancio Matti eccola là questa è la spiace questa è il ristorantino Matti non ti affaccia troppo bello è visto un po' più belli ma allora? che dici? Matti cucci era il momento di avvenirlo sì salve signor schiacchietello come sta? mi faccio vedere a Punta Pella a Punta Pella non 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 Grazie a tutti. 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 Vabbè, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.